Buongiorno ragazzi, come state? Innanzitutto volevo ringraziarvi per i 90 iscritti, quindi sono vicino ai 100, infatti saranno sui 94, dopo vi mostro. Anzi andiamoci subito, cliccando su il mio canale. Eccoci, è il mio canale, ecco qua, 94 iscritti, ne mancano 6, meno 6 ai 100 iscritti. Innanzitutto quello di cui vi spiegherò oggi è come risolvere il problema del wifi su Lion, in quanto in questi ultimi giorni ho avuto un po' di problemi con Lion, in quanto dopo l'aggiornamento a Lion, quindi dopo estate, ogni 2x3 ho avuto dei problemi con il wifi, in quanto mi si scollega, o mi si scollegava ogni 10-20 minuti, soprattutto in questi ultimi 2-3 giorni. E quindi per risolvere il problema ho scoperto che proprio qualche giorno fa, il 7, ieri, è stato pubblicato questo video da Angelo Mosca, di Apple HD Blog, che ha pubblicato un video su come risolvere il problema e quindi ve lo riporto. Innanzitutto per risolvere il problema bisogna andare, cliccare su l'icona wifi, cliccare su apri preferenze network, disattivare il wifi, andare dove c'è scritto posizione, cliccare su modifica posizioni e aggiungere una nuova posizione, noi la chiamiamo ad esempio prova wifi e clicchiamo su esci. Clicchiamo su applica, dopodiché andiamo su wifi, clicchiamo su attiva wifi, dice wifi non ha indirizzo IP e per questo non può connettersi a internet. Quindi clicchiamo su avanzate, TCP IP, rinnova DHCP assegnato e ci trova l'indirizzo IP del router. Dopodiché ovviamente andando su un qualsiasi sito funziona perfettamente, come potete vedere. anche il meteo, penso ormai giusto, la prova meteo è quella più attendibile. Ecco. Dopodiché volevo ringraziarvi e ringraziare soprattutto questi qua di Apple HD Blog che hanno risolto il problema perché è da un po' che avevo questo problema. Quindi se avete Lion e non riuscite a collegarvi o avete dei problemi di connessione basta fare modificare la posizione in modo tale che vi rimanga salvato il tipo di wifi. Poi ovviamente se volete aggiungere dei DNS qua lo potete fare. Vi ringrazio per l'attenzione cordiali saluti Francesco connessione